ma via 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 non hai colpi Frank devi andare brutta zona brutta cosa riusci in qualche modo Frank che bella jeep che abbiamo qui però c'è lo starter mettiamoci dentro un po di roba c'è un cazzo di baura no lasciamo qui però possiamo segnare sta macchina macchina blu qua per trovare i pezzi delle auto che mi servono sarebbe oro qui si può vedere posso cercare anche qua il bidon e si aprono anche guarda anche qui cavi elettrici si trova un po è giusto questa prendiamo c'è ci può essere utile questi si k47 no per ora che altra rotta una mina questo se ce l'abbiamo la masca anti gas si potrebbe essere utile più avanti è che questo si può rumpere è che questo si può rumpere Iniziamo Lockpick Crafting Quattro questo Ok User Usa Lockpick Fest 5.56 Messari d'Ashory Mappala La roba per la costruzione Figo C'erano le robette anche qui Purtroppo non ci posso fare nulla ora No 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 cazzo l'unica cosa c'ha è la fanbete cazzo l'unica cosa c'ha dentro vediamo chiave 4 di questi cacciavite la mina la voglio usare un coltello mi basta resta non lo porto un'altra auto da segnare auto da completare quindi blu dove sono adesso è un po' quella trappola per questa trappola luce ottimo carina carinissima ripresa ottimo un coglione ora continua a seguire bastardo proprio fino all'osso ma continui a seguire eh pezzo di merda ma fuzzi bastardo zomboid rifatto degrafica si molto meglio bastardi ci colpiamo bene c'è una medicina ma che ti attacca una volta o sfondalo e sei bastardo guardi qui ma l'ho ammazzato si perchè c'è loot e vi diciamo la mia solita pistola si altro po' di medicina per andare avanti 24 e che così possiamo attaccare anche quello col pompo 99 è buono devi scappare perché perchè pompa da da vicino shotta bene ma da lontano non tanto ora prendo il mio questo pompo che succede? è tanto buio? però questi mi servono per spiazzare e fare un'esplosione buona come anche questo vorrei provare a fare dei molotov crafting molotov si una due molotov fatte ok vediamo le skill invece cosa posso inserirmi più danni più danni con la pistola incremento la distanza del binoculo questo più danni con la pistola ma primaria anche questo è importante questo vai è